Cinque anni di attesa sono troppi. Attivo, amore mio. Ti confesso che mi piacerebbe molto se Andrea e tua figlia si sposassero. Io ti amo. Ti amo. Non ci provare più. Non devo perdere un solo istante se voglio che sia. Tu mi aiuterai. E perché io? Perché in realtà sei innamorata di Alex. Non so perché lei ce l'abbia con me. Io sposerò lo stesso suo figlio. Grecia Colmenares è Marina. Da lunedì al sabato alle 13.20 e alle 16.